Il film Borg McEnroe riporta alla ribalta la storica rivalità tra i tennisti Bjorn Borg e John McEnroe. I due sportivi si sono affrontati per ben 14 volte tra il 78 e l'81, conquistando 7 vittorie ciascuno. A interpretare McEnroe sarà Shia Leboeuf, mentre a vestire i fanni di Borg sarà Sverir Gudnason. Stellan Skarsgård sarà invece Lennart Bergelin, allenatore e mentore di Borg. Il 21 dicembre esce Tutti i soldi del mondo di Ridley Scott con Mark Wahlberg, Michelle Williams e Kevin Spacey, che racconta il rapimento di Paul Getty III, erede di un magnate petrolifero ad opera dell'Andrangheta nel 73. Il 21 dicembre per l'Avare Arah un PM Il 21 Arah un Teng Il 21 Arah un Teng Un Teng Arah un Teng Il 21 Arah un Teng